Autunno sinonimo di tante prelibatezze sulle nostre tavole, tra queste i funghi che, complici le piogge di questi giorni, cresceranno rigogliosi nei nostri boschi. Per evitare intossicazioni, la ASL mette a disposizione, come ogni anno, i suoi esperti presso gli sportelli micologici. Il servizio inizierà lunedì 6 novembre, i funghi raccolti potranno essere dunque controllati prima di finire in padella. Gli sportelli sono nelle diverse sedi delle province di Arezzo, Siena e Grosseto, senza bisogno di prenotazione. I professionisti ASL, oltre a determinare la loro commestibilità, potranno anche dare indicazioni e consigli sulla corretta manipolazione, cottura e conservazione. Per agevolare il controllo è consigliato di portare i funghi in contenitori rigidi o forati, come cestini, mantenerli interi, pulirli dal terriccio e dalle foglie, presentarli in buono stato di conservazione. In attesa del controllo, si raccomanda di conservarli in frigo. I funghi che non rispetteranno queste condizioni, o quelli che risulteranno ancora peggio appartenere a specie non commestibili o velenose, saranno distrutti.